Ma chi ti accanto a te? Ma c'hai una perf! Ma c'hai una frizzantezza! Fly, vai! Stupenda! Stupenda! Che la di fuori è togliata! Ma che bella la tazza! Il prodotto è stellato, è stellare, secondo te è stammare. E le passioni uova del mondo. Complimenti, eh! Da perdere la testa! Posso? Meravigliosa! Posso riprendere questa gioia? Di che anno siamo, la vettura? 55! Complimenti! Il poveriggio stupenda! Stupenda! Chi ha una macchina del genere, chi ha una macchina del genere, è simpatico, è disponibile, ti saluta, ti sorride. Perché è uno che non gliene può fregare di meno di quello che pensa la gente. Va avanti con le idee sue! A lui gli piace il prodotto stellare? Oggi vanno le teutoniche, vanno le italiche, per carità, ma rispetto per il prodotto stellare! Rispetto per il prodotto Thunderbird! Ci hanno fatto Chris, ci hanno fatto Happy Days, ci hanno fatto America Graffiti! Vuole dire qualcosa? E lui sta a portare in giro per la capitale! Noi dobbiamo andare a lavorare! Attenta e porta a lavorare! Io vado a lavorare e lui sta a portare a Thunderbird! E viva la vita! Ma grata è lui! Ma bella per lui e bella per noi che spaioliamo per raggiungere queste passioni! Ma che bella per te! Viva la vita!